4 nuovi tecnici in casa Nissa Rugby. 4 nisseni di cui 3 già atleti della società di Caltanissetta che hanno scelto di ampliare la loro conoscenza della palla ovale e di metterla al servizio della compagine del presidente Giuseppe Lo Celso. Cristian Severino, Michele Palumbo, Francesca Sardo e Marco Castellana hanno conseguito il titolo durante il corso in presenza che si è svolto sabato 4 febbraio nella clubhouse della Nissa Rugby al Marco Tomaselli di Caltanissetta tenuto da Giuseppe Berretti, tecnico regionale responsabile didattica FIR. I 4 hanno ottenuto il corso di primo livello e potranno allenare i giocatori dai 7 ai 13 anni. Nello specifico Marco Castellana, laureato in scienze motorie, si occuperà del reclutamento nelle scuole. Francesca Sardo affiancherà il tecnico Sonia Orlando nel progetto Nissa Rugby Kids. Michele Palumbo e Cristina Severino si occuperanno della categoria Under 9 fino a 13. Appartengo alla Nissa Rugby da quando è nata praticamente, prima come giocatore e oggi anche come tecnico, proprio perché mi piacerebbe trasmettere i sani principi che ha la società nissena e i valori del rugby in generale. Come obiettivo mi prefisso di dare nel mio piccolo tutto ciò che conosco del rugby giocato, ma soprattutto di trasmettere a questi giovani giocatori la voglia di crescere nello sport, lo stare insieme, far parte di un gruppo, ma soprattutto sentirsi importanti all'interno del gruppo stesso e poi fondamentalmente farli divertire. Per questo motivo ringrazio la società nissena che mi ha fatto crescere come atleta, come giocatore e anche come persona prima e che mi ha dato l'opportunità con la miglior formazione possibile e diventare un buon tecnico in futuro. Spero che vengano sempre più ragazzi a conoscere la nostra realtà anche perché le porte della Clubhouse del campo sono sempre aperte.